Il mio socio era a 92 anni e purtroppo è allettato, mi sono arrivati tre bollettini da pagare, di cui lui già ha pagato. Dobbiamo dare una differenza non indifferente sulle 350, ogni bollettino 91, 141, 156 e sono venuto qua a reclamare. Protestano alcuni cittadini salernitani che in questi giorni si sono visti arrivare a casa dalla Soget S.p.A. Ha interiscossione per conto del Comune di Salerno alcune cartelle che invitano i contribuenti a pagare tributi e retrati relativi a Dici e Tarso. I cittadini preoccupati si recano negli uffici in via Galloppo a Torrione a Salerno per chiedere spiegazioni. Si tratta, come hanno dichiarato alcuni intervistati, di pagamenti già effettuati o di situazioni in cui le metrature indicate dal proprietario sono diverse da quelle riscontrate dagli addetti. Mi sono ritrovata con queste sei cartelle, sono la bellezza di sei cartelle, dove dichiarano, secondo loro, che io ho una casa di 243 metri quadrati, mentre casa mia sui 110. Evidentemente mi hanno messo anche i metri quadrati del ragazzo che abita sul mio pianerotto. A me sarebbe lieta di pagarli, purché mandano via il ragazzo a fianco a me, come no? Ho dato un accertamento nel 2007 dicendo che dovevo pagare 90 euro, quando io avevo fatto un uomo dato a mia figlia che dovevo pagare il 5,5% e me l'hanno fatto il 7,5%. E questo fatto già l'avevo rappresentato al comune cinque anni fa, adesso mi hanno richiamato un'altra volta. E a conti fatti sono quasi 600 euro, con una pensione che è piglia di 600 euro, voglio dire come ha detto un uomo. Ma per quale motivo dovreste pagare 600 euro? Per la casa, perché dici che è la casa più grande dei metragi. Dici che l'ha dichiarata di meno, loro non la trovano di più. E nessuno lo rispetta, ma chiamate ciò. Allora, a noi non li prendono tempo, ma presso loro. Siamo di fronte, ha dichiarato il consigliere comunale Roberto Celano, a pretesi immotivate e illegittime di tributi. Si richiedono spesso, continua Celano, somme già pagate o erroneamente ricalcolate, oppure importi per anni in cui presumibilmente è già intervenuta la prescrizione. Credo che si stia sparando nel mucchio. L'amministrazione comunale ha necessità di fare cassa e attraverso la Soget sta inviando migliaia di avvisi di accertamento, spesso immotivati e illegittimi, richiedendo e con pretese tributarie che sono pretestuose, in quanto si tratta di importi dal volta già versati in anni precedenti. Vi sono evidenti errori nel calcolo e nella considerazione dell'alicota. Ad esempio per abitazione data e incomodata da genitori a figli viene calcolata l'alicota ordinaria e non l'alicota agevolata.